Cari fringuelli, reggetevi forte perché sul sito di Decathlon sta avvenendo una rivoluzione incredibile, infatti dal 5 aprile sarà disponibile in preordine la Mountain Bike Rock Rider Race 900 LTD SRAM XX1 AXS Wireless. Quanto costa? Costa 4249,99€. È un prezzo da Decathlon? No, a parte il 0,99€ che ormai è una costante nei prezzi Decathlon, tutto il resto non è certamente un prezzo in stile Decathlon. È una bicicletta incredibilmente prestazionale, cioè non è pensata per il ciclista che si avvicina per la prima volta al mondo della Mountain Bike. Questa bicicletta è stata ideata e allestita per l'agonista che cerca il mezzo perfetto per andare a vincere le competizioni in Mountain Bike. Cioè, quindi non stiamo parlando di una bicicletta come in molti sostengono da supermercato. Un conto è parlare di una bicicletta entry level, su cui Decathlon ha fatto la sua fortuna e su questo nessuno ha niente da dire. Un conto è parlare di una bicicletta come questa, che è una bicicletta che può dare e che darà probabilmente del filo da torcere anche a biciclette di marchi molto più altisonanti. Per quanto riguarda il peso, nelle taglie S, M, L e XL varia da 9.4 della taglia S a 9.8 della taglia XL. Ed è impressionante perché il telaio è interamente realizzato in carbonio, con fibre di alto modulo. Ovviamente, quando si parla di alto modulo, il telaio non può essere realizzato soltanto con fibre di alto modulo, perché sarebbe leggerissimo, ma fragilissimo. Usano il termine alto modulo probabilmente perché è più facile da far digerire, però di solito è un mix tra basso e alto modulo. Quanto pesa il solo telaio? Pesa 1030 grammi in taglia M. Sul telaio è montata una trasmissione completa, SRAM XX1 AXS Wireless. La corona è da 34 denti, ma può ospitare anche diverse misure, 30, 32, 34 ovviamente e 36. La cassetta pignoni è un 10-52. Per quanto riguarda la sospensione abbiamo una forcella RockShox Seed SL Ultimate 100 mm, costelli da 32 mm, perno passante, formato boost, blocco sul manubrio per un peso di 1370 grammi. Le ruote sono da 29 pollici, quindi sono dei bestioni di Reynold e dal peso di 1665 grammi, con cerchione in fibra di carbonio. I freni sono degli AIS Dominion T2 in carbonio, prodotti a mano negli USA, con diametro da 160 mm, peso da 254 grammi. Anche il manubrio è in carbonio, prodotto da Protaper Hyper Light, con una larghezza di 760 mm ed un peso di 125 grammi. La sella è una Physique Argo Vento da 230 grammi, anche il reggisella è ovviamente in carbonio con un peso di 255 grammi. Non sta ovviamente a me dire se Decathlon abbia fatto bene o meno a cambiare completamente direzione, inserendo nel suo catalogo pezzi di prima qualità. Ovviamente dal mio punto di vista questa scelta mi piace, vedremo se nel lungo periodo sarà una scelta premiante, credo però che a qualche d'uno, a coloro che etichettano ancora oggi Decathlon come il ciclo male, il boccone a questo giro gli andrà molto di traverso. Ok ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buonanamente alla prossima, ciao!